Le frontiere oggi oramai come non esistono più sul piano politico, non esistono più neanche in arte. In realtà poi in arte le frontiere in sé non sono mai esistite, perché un artista deve guardare al mondo, a quello che succede e anche come parametri proprio di visione deve spaziare nel mondo. Di conseguenza quello che riguarda la patria o meno può essere una cosa importante evidentemente sul piano personale privato, ma sul piano professionale non si fanno più i conti regionalmente.